ci troviamo sul 3 a 0 qua a nuovo di via olimpia rete 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 ha segnato riccardo del bello bella rete di riccardo del bello cambio entra luca rulli cambio esce il numero 9 federico tucci ed entra il numero 20 luca rulli 4 a 0 fino adesso il risultato qui al nuovo di via olimpia tra la virtus casta e freddano e l'ortona calcio la virtus casta freddano sta giocando con la divisa bianca con risvolti giallorossi tutta bianca pantaloncini calzettoni mentre l'ortona calcio con la divisa tutta rossa ecco di nuovo te di mata col pallone passa riccardo del bello che lancia